Sio Stokmindenkinek, ciao a tutti. Oggi voglio parlare con voi di immigrazione in Italia e vorrei partire appunto dagli sbarchi, dal numero ufficiale, dai numeri, dai dati ufficiali dati dal Ministero dell'Interno Italiano per quanto riguarda solo gli sbarchi, cioè c'è tutta quella parte di immigrazione illegale di massa che viene via terra a nord, nel nord del paese. Questo grafico illustra come nell'ultimo anno, nel 2020, fino al giorno 26 maggio, come c'è scritto qui, gli arrivi sono stati 4.777 contro i 1.490 dell'era Salvini l'anno scorso, contro gli 11.984 di due anni fa l'era Minniti, quindi il governo Gentiloni a guida PD. E quindi i numeri sono più che triplicati rispetto all'anno scorso, quindi all'era Salvini. Come vediamo in quest'altro grafico giornaliero, dal 22 in poi, dal 23 meglio in poi, 24-25, ci sono stati molti più arrivi, soprattutto il 24 maggio come vedremo più in dettaglio più tardi, rispetto all'anno scorso 68 contro 188. E andando a vedere la nazionalità dei migranti, dei clandestini, delle persone che arrivano illegalmente sul vostro, nostro paese, perché parla il Patrick italiano qui, la prima nazionalità è il Bangladesh, sono bengalesi 830, secondi ivoriani 663, tunisini 439, quindi la classifica rimane quella. Per chi è ben pensante, buonista, pensa che questi numeri sono nulla perché la popolazione italiana è di 60 milioni, bisogna ricordare che questo tipo di immigrazione è volto alla sostituzione graduale, lenta, della popolazione italiana ed europea, soprattutto nell'ovest europeo, perché questi numeri sono numeri giornalieri, mensili, annuali e la popolazione europea italiana in questo caso è una popolazione molto anziana che invecchia man mano, una popolazione che fa sempre meno figli e che sta sotto al tasso di rigenerazione naturale e della popolazione di 2,1 figli per donna, siamo in Italia circa 1,3 abbondante ancora. Andando avanti e leggendo gli articoli dei vari quotidiani italiani, perché la stampa locale, soprattutto locale come vedremo in Sardegna e in Sicilia, dà notizie molto più dettagliate ovviamente della stampa nazionale e internazionale. E quindi vorrei partire dal tempo che parla di come la sanatoria ai clandestini voluta dalla Bellanova, Teresa Bellanova, Italia Viva, quindi il partito di Renzi, ha fatto scatenare gli sbarchi da sud subito, quindi record di sbarchi. Nell'agricentino, come titola la Repubblica, sbarcati 70 milianti in fuga nelle campagne e siamo il 24 maggio, se non erro, sì, 24 maggio. Andando avanti si legge che a Palma di Montechiaro, tre motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, con l'ausilio di un elicottero addirittura, hanno continuato a lungo a setacciare il mare per trovare il presunto barcone. Quindi con i soldi pubblici si va in cerca di clandestini, di immigranti illegali. Alcuni di loro si sono incamminati verso le campagne subito dopo lo sbarco e sono poi stati radunati dalle forze dell'ordine a Palma di Montechiaro. Quindi questi sono liberi di sbarcare autonomamente, di andare in giro e poi essere radunati dalle autorità italiane, dalle forze dell'ordine, in un punto tranquilli. Erano stati avvistati da alcuni automobilisti sulla 115 mentre si riparavano all'ombra degli alberi lungo la statale. Sono ospiti. Dopo non mi venite a dire nei commenti che i confini di mare, di acqua, non possono essere controllati, sorvegliati e far rispettare la legalità. Perché l'Italia non fa nulla per far rispettare la legalità. Sembra che aspetti, le autorità italiane sembra che aspettino l'immigrazione illegale. Sono degli ospiti, sembra che in qualche modo tutto è dovuto, tutto è normale. Non è normale la normalità, il controllo dei confini. Comunque per tutto il giorno è stato lo sbarco più numeroso avvenuto quest'anno in Italia. Sì perché c'è stata tutta la storia dei 400, 300 e poi sono stati ridimensionati i numeri di questo sbarco. E Repubblica ce lo ricorda naturalmente perché per Repubblica è normale che 70-100 possano arrivare in Italia illegalmente. Prevalentemente Tunisini, a loro ha portato mascherine e bottiglie d'acqua, tè, ciambelle, chi? Il sindaco Castellino, prima che venissero trasferiti coi pullman a Porto Empedocle. Quindi pullman, tè, ciambelle, bottiglie d'acqua, mascherine perché i mascherine per esempio agli italiani, per buttarvela là. Nelle farmacie non si trovano magari neanche a 2, 3, 4 euro ognuna, quindi a pagamento con i soldi delle famiglie, invece dei lavoratori. Invece per chi arriva illegalmente le mascherine e magari i test sanitari ci sono sempre. E gli italiani se non rispettano le regole di distanziamento sociale poi sono multati oppure perché si abbassano un attimo la mascherina per fumare, per bere, per andare in giro. Benissimo, bene, quindi doppi standard. Vicino al luogo dello sbarco è stato poi trovato un peschereccio di 10-12 metri. Quindi un'imbarcazione considerevole che però viene, come si può dire, sminuita e snombata da Repubblica. Il primo intervento è avvenuto in mattinata con il pattugliatore P-02 Montecimone del gruppo aeronavale di Messina che aveva individuato al limite delle acque territoriali, al limite delle acque territoriali. Quindi il pattugliatore italiano, con i soldi pubblici, va al limite delle acque territoriali, quindi magari con la Sar Maltese o Libica. E quindi li vanno a prendere letteralmente a molte miglia marine dalla costa italiana. Questo vi sembra normale? Un primo gommone con sette migranti diretti inequivocabilmente verso le coste di Mazzara del Vallo. Dopo aver imbarcato i migranti l'unità si era diretta verso il porto di Trapani. E quindi tranquillamente verso l'Italia. Andando avanti vediamo questo video che ci mostra come lo sbarco avvenga normalmente, tranquillamente. Come se questo fosse tutto dovuto. Vedete? Chi è che filma? Chi è che fa questo filmato? Ma vi sembra normale che le autorità permettano tutto questo? Questo è da nazione seria? Una nazione di per sé ha già dei confini e deve farli rispettare. Non può pretendere dopo l'Italia, gli italiani non possono pretendere di spartire i clandestini per tutta Europa. Se tu fai entrare persone illegalmente e hai i confini che sono... Ormai l'Italia è una groviera? È presa d'assalto da nord, da sud, vedremo? Dopo non puoi pretendere di avere in cambio dagli altri paesi membri dell'Unione Europea... Che cosa? La spartizione. No. Tu non devi avere la spartizione. Tu devi controllare i tuoi confini. Devi fare in modo che le persone non arrivino clandestinamente in Italia. La stampa, perché ce ne sono altri sbarchi naturalmente. In mattinata un gruppo di 52 persone, questo credo sia del 25 maggio, pare di origine subsahariana naturalmente. E tra loro alcune donne era sbarcato autonomamente sull'isola di Linosa, la più piccola delle pelagie. Ed è stato poi bloccato dai carabinieri. Ma i carabinieri che fanno? Rimandano in Libia? No, naturalmente. O in Tunisia? No. I 52 dovrebbero essere tutti trasferiti a Lampedusa. E vai, quindi? Quindi che fai? Se li prendi, incoraggi altri, con l'effetto magnete per chi parla inglese, pull factor, ad arrivare. Dove appena ieri si erano registrati altri due sbarchi a Lampedusa. Uno di appena 6 persone, una famiglia, l'altro di 40. Quindi sono dei viaggi ormai, una famiglia. Guarda, ma che è? Appena poche ore dopo che dall'isola erano stati portati via tutti i migranti i precedenti sbarchi. Non fanno tempo ad arrivare che ne arrivano altri. Entrambe le imbarcazioni arrivavano dalla Tunisia, dove il governo locale ha fatto sapere di aver bloccato tra il 21 e il 22 maggio una decina di partenze per l'Italia. Ma vi sembra tutto normale? Ma perché non si parlano il governo italiano e tunisino? Perché il governo italiano non prende delle iniziative più forti per non permettere queste partenze? E in caso di arrivo in Italia il respingimento? Obbligato. Che nazione è l'Italia? E lo dico da italiano, lo dico da italiano. Non mi venite a scrivere tu chi sei per giudicare gli italiani l'Italia. Io sono italiano come sono ungherese. Appena ieri la guardia di finanza aveva intercettato tre piccole imbarcazioni, 27 persone in tutto, poco a largo delle coste del Trapanese, tra Marzara e Marzara del Vallo. Vi rendete conto che situazione? Sono flottiglie ormai, sono flottiglie. Vediamo questo video di Local Team. Questo è il maxisbarco di Palma e Montechiaro, come c'è scritto. La polizia, vedremo anche la guardia di finanza, la polizia locale, vedete le macchine dietro. Arrivano tranquillamente vestiti con le felpe, i jeans, fumano. Vengono date loro le sigarette. Il poliziotto conta. Ah, anche le mascherine naturalmente. Questa è la normalità secondo voi? Questo è da paese civile normale? Io so che in molti mi seguono, vedete anche, viene dato loro i pullman e tutto per portarli via, fanno il segno della vittoria. So che molti di voi mi seguono dall'estero, non dall'Italia. E quindi non siete abituati a queste immagini. Se questo, questo vi sembra, ovviamente non vi sembra la, la, la normalità. Quello che deve succedere in un paese serio, normale. Ma questo, tutti tranquilli. Ma questo, 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 che cos'è un fenomeno, questo non è un fenomeno spontaneo. Ditemelo voi, ditemelo voi. Io, io, ho finito le parole. Che cosa dice un tunisino di questo sbarco di Palma? Siamo qui per lavorare. Preghiamo addio perché l'epidemia finisca. Vediamo, vediamo. Per migliorare la vita e per lavorare. Vieni con i documenti, con il volo aereo, con il traghetto. Vieni regolarmente, rispetti le regole, vivi legal, in modo legale. Per sistemarsi. Per sistemarsi. C'è una possibilità di fare tutto questo. Eh certo. Perché in Italia, naturalmente, è il dorado. Lavorare pomodori, raccogli pomodori, lavoro di tutto. Quindi significa che vanno a raccogliere pomodori nei campi, eccetera, i lavori più umili, in maniera illegale, facendo concorrenza sleale a chi magari vuole fare questo lavoro italiano o europeo o legale, non mi interessa, pagando le tasse, avendo le tutele sindacali, avendo le tutele, che ne so io, le malattie, eccetera. Benissimo, andiamo avanti. E' già venuto in Italia? Sì, sono stato in Italia. Ah, già è stato in Italia. Scusate, ma il sito ha smesso di funzionare inspiegabilmente. Comunque, andando avanti nel video, come c'è scritto nell'intervista sotto, tradotta in lettere, quindi in parole, un articolo, un articoletto, entrambi gli intervistati, quindi i due tunisini, erano già stati in Italia, sì, e riportano queste parole, afferma che sono stato quasi dieci anni, qui ho fatto l'autista, il meccanico, ho lavorato in un autolavaggio, adesso spero di riuscire a fare i documenti per lavorare. Quindi sanno che in Italia è permesso l'arrivo, più volte addirittura illegale, sul suolo nazionale, e poi possono essere regolarizzati. E di chi è la colpa? Di tutta la politica che ha fatto sanatori negli anni, di tutta la politica che accetta, accetta negli anni, la regolarizzazione di chi arriva illegalmente. E arrivare illegalmente sul suolo nazionale è un reato fino a prova contraria. Non c'è, non c'è, secondo nessun trattato al mondo, il diritto a migrare. Uno dei due migranti economici ha anche ricostruito il viaggio del gruppo giunto nella costa grigentina. Siamo arrivati in barca clandestinamente. Cioè il giornale parla di due migranti economici, cioè non dice clandestini, illegali, e loro stessi dicono che sono arrivati in barca clandestinamente. Siamo stati in mare tre notti, siamo partiti da Monastir, quindi in Tunisia Monastir. Assurdo. Andando avanti il video, gli migranti sbarcati a Linosa e trasferiti a Lampedusa. Siamo su Sky Video. Vedete? Queste immagini non vi ricordano lontanamente, ma neanche troppo lontanamente, ciò che sta avvenendo nel canale della Manica tra Francia, tra Belgio e Regno Unito e Dover, quindi la costa del Sussex meridionale della Gran Bretagna. Queste persone arrivano illegalmente, vengono accompagnate dalle autorità italiane, come se tutto fosse normale e dovuto, con i soldi pubblici dei contribuenti. Vedete? Questo durante il coronavirus. E' pur vero che le misure sono state allentate, la fase 2, ma vi sembra normale? Tutto questo è la norma per voi? Perché gli italiani non dicono nulla? Perché tutto questo è permesso? Comunque, controllo se sto registrando, oggi sto avendo un mare di problemi con le registrazioni. Comunque, andando avanti, info agrigento, sbarchi di migranti, lunghe le coste agrigentine, nuovi arresti della polizia, perché se aumentano gli sbarchi, aumentano gli arresti della polizia, di Stato, della città dei templi, quindi agrigento, con l'intensificarsi degli sbarchi. I reati vanno dal reingresso illegale nel territorio dello Stato, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani. Sì, ma non basta questo. Non devono arrivare, non devono essere accolti gli illegali, sennò si crea quell'effetto magnete, quel pull factor per quelli bravi che parlano inglese, perché arrivare illegalmente, essere clandestini, è un reato. Gli ultimi arresti risalgono da appena qualche giorno fa, nove tutti i tunisini, arrestati per aver fatto reingresso illegale, dopo che erano stati espulsi con provvedimento del prefetto. Siamo alle comiche. Due di loro, peraltro, dovevano scontare delle condanne per reati precedentemente commessi in Italia. Pensate che brave persone. Uno dei due si era già reso artefice in Italia di diversi e gravi reati, quali rapine e lesioni aggravate. Un altro ancora, reati di incendio, lesioni aggravate, violenza privata. Ce n'è per tutti. Andiamo avanti. L'Unione Sarda, perché riguarda anche la Sardegna, questo è il sud della Sardegna, il Sulcis, questo tipo di fenomeno illegale. Due barchini, 23 migranti, il racconto degli ultimi sbarchi in Sardegna. Doppio intervento di salvataggio messo in atto dal gruppo aeronavale della Finanza. E quindi qui c'è tutta la mobilitazione dell'autorità italiana per andarli a prendere. Provengono tutti dall'Algeria e sono stati avvistati a bordo di due barchini dalle motovedette, hanno sbagliato a scrivere, impattugliamento, delle coste, poi fatti a prodare a Cagliari e Sant'Antioco. Se vi sembra normale, anche questo. L'operazione di soccorso si concludeva in porto, canale vicino Cagliari, dove alle ore 10 di oggi il team di Frontex, quello europeo, l'agenzia europea, unitamente ai militari del corpo, ha dato corso alle consuete operazioni di sbarco, identificazione e audizione dei migranti, nonché ai previsti controlli sanitari. Tutto sulle spese del contributente italiano. Tutto è dovuto. Sembra veramente che gli italiani stiano lì per aspettare gli illegali. Successivamente, gli stessi sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza di Monastir. Monastir che non è quello tunisino, ma è quello vicino Cagliari, quindi in Italia. Nella mattinata odierna, invece, un altro barchino con 11 migranti è stato avvistato dall'elicottero del Rohan, quindi dall'autorità italiana. Sono stati sottoposti alle procedure di rito per l'identificazione per le successive attività di polizia giudiziaria, atteso che l'evento in questione, a differenza del precedente, si ritiene abbia integrato gli estremi del reato di immigrazione clandestina. Ma perché? Gli altri che venivano con i documenti? Gli altri che venivano legalmente? No! E allora che diavolo? Ma cosa sto leggendo? Vediamo un attimo la data. La data è del 25 maggio, quindi di ieri, mi sembra. E di avanti ieri. Sono così. Oggi sono confuso. Vediamo lo sbarco. Quindi arrivano tranquillamente. Questa è in Sardegna, sento, eh? Questa nave, credo della Guardia di Finanza, vedremo poi la scritta sul fianco dell'imbarcazione. Sì, credo della Guardia di Finanza, arriva. Andando avanti. Niente, non ce la faccio proprio oggi, mi si bloccano tutti i video che non riguardano YouTube. Avanti, vi faccio vedere M1, ciò che fa vedere M1, la televisione pubblica ungherese riguardo alla situazione italiana. In Italia, vi traduco, se no, non si capisce nulla. In Italia, l'epidemia non è più nelle sue fasi acute, quindi i controlli anche sono stati allentati. I migranti illegali. Badate bene, come la televisione pubblica ungherese dica migranti illegali, clandestini, quindi. Il numero sta crescendo degli archivi. Nel fine settimana 160 afghani e pakistani. sono stati fermati dall'autorità italiana vicino a qualche chilometro da Trieste. Dopo gli esami sanitari, naturalmente gentilmente offerti dai contribuenti italiani volontariamente, sono stati portati nelle tende per fare due settimane di quarantena famose. E non si può neanche sapere quale sarà il loro futuro, quale sarà il loro destino. Ma noi già lo sappiamo, perché verranno accolti, verrà dato loro tutto, potranno rimanere in Italia, non si sa per quanti anni, forse a vita. Che bello, eh? Io Conti, Giuseppe Conti, non lo voglio neanche ascoltare. Andiamo avanti. Perché non finisce qui la storia? Parliamo del lato nord, del lato nord-est, del lato Friuli, Carso, Trieste, altri 70 migranti intercettati sul Carso triestino. Leggo il giornale. Continuano gli ingressi anche al confine italo-sloveno, naturalmente per il governo che vuole l'immigrazione, perché questo è quello che sembra, per la groviera che è l'Italia, senza confini. I passaggi sono ripresi dalla fine di aprile. In 70 sono stati bloccati alle porte di Trieste tra domenica e lunedì. In maggioranza afghani e pakistani, anche loro, come gli altri, verranno messi in quarantena nella tendopoli allestita al Campo Sacro, un ex-campo scout sul Carso. Quindi vengono spesi molti soldi per l'accoglienza, la cosiddetta accoglienza, che per le sinistre è sempre dovuta. Polizia parla di rintracci quotidiani, l'ennesimo dopo quello di ieri e dei giorni scorsi. Una situazione che obbliga oggi una maggiore attenzione da parte del governo centrale. del governo centrale è fondamentale che si agevolino ed incrementino le pratiche di riammissione in Slovenia, come avviene per esempio in Ungheria per la Serbia. Lo so che sono casi diversi che la Serbia non fa parte dello spazio Schengen, ma sempre che per gli accordi di Dublino i clandestini devono essere respinti più verso l'esterno fino ad arrivare fuori dallo spazio Schengen, quindi Slovenia, Croazia, Bosnia, che entrano clandestini sul nostro territorio nazionale. Quindi bravo questo poliziotto, questo capo del sindacato di polizia. Ma secondo il prefetto, e arriva il prefetto, Valerio Valenti, i numeri non sarebbero eccessivamente preoccupati. Dunque venghino, venghino. Assicura il governo è molto attento. Lo vediamo, lo vediamo proprio che il governo è attento. Il vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori, soltanto i minori non accompagnati sono 400 e ci costano un milione di euro al mese. Pensate che spesa solo a Trieste. Da Roma attacca, non arrivano indicazioni precise. Il sistema rischia di collassare da un momento all'altro perché i flussi non si fermeranno, anzi, anzi. In Bosnia i campi profughi sono stracolmi. Si parla di almeno 10.000 persone. So per certo che da lì si sono messi in marcia almeno in 500. In realtà i numeri sono molto più alti. Parliamo della zona di Biac, parliamo della zona del nord del paese a confine con la Croazia dove c'è quel megacampo che stava in rifacimento se non ricordo male. Ve ne ho parlato in molti video. I numeri non sono questi, sono più alti nella penisola balcanica. Parliamo di più di 130.000 persone arrivate illegalmente che stanno lì da mesi da quando c'è il coronavirus. Solo in Serbia per dirvi ce ne sono più di 8.000 e quindi in Bosnia non ce ne sono di certo solo 10.000 molti, molti di più. La Croazia fa il possibile per controllare le proprie frontiere ma appena inizieranno a sbarcare i primi turisti la maggior parte degli agenti di polizia verrà spostata nelle zone di villeggiatura e il confine resterà sbarnito. Perché l'Europa non aiuta nella protezione dei confini? Evidentemente l'Europa non vuole la protezione dei confini. L'Europa vuole accogliere illegali, vuole maggiore immigrazione nella realtà sotto sotto. La soluzione per lui sono i respingimenti e ti credo al confine con la Slovenia però non vengono fatti i respingimenti il governo ha paura no il governo non vuole i militari sono pochi e i migranti una volta passato il confine si cambiano e buttano tutti gli oggetti riconducibili al paese di provenienza. Il solito trucchetto visto volte molte volte da anni ormai sul Carso e non solo. Torno ai respingimenti a 20 miglia quindi siamo nella parte francese dall'altra parte del nord Italia invece gli spingimenti da parte dei polizioti francesi sono ricominciati la Caritas in Temelia parla di una ripresa del transito dei migranti soprattutto afghani si parla di una decina di persone al giorno quindi questi fanno mezzo mondo a piedi con i treni con i bus aiutati e arrivano in Europa che bello si parla di una decina di persone al giorno cifre che però potrebbero salire nelle prossime settimane e quindi gli sbarchi in Sicilia gli sbarchi in Sardegna favoriscono favoriranno sicuramente il caos che abbiamo visto anni addietro a 20 miglia il prefetto di Imperia per ora è tutto tranquillo non mi sembra una situazione preoccupante quindi i prefetti come il ministro Lamorgese vedono come normale una situazione del genere come hanno fatto ad attraversare l'Italia se gli spostamenti tra le regioni sono ancora vietati attacca invece il deputato leghista Flavio Di Muro giusto gli italiani non possono muoversi ancora tra le regioni che è assurdo e i clandestini possono arrivare a 20 miglia pensate gli assurdi dell'Italia l'annuncio della sanatoria il reinserimento nel decreto rilancio della possibilità di accogliere i richiedenti asilo nella rete ex Sprar sicuramente stanno contribuendo a far aumentare il numero delle partenze non si può che non essere d'accordo con il deputato leghista andando avanti vi parlo della situazione perché in un paese simile come l'Italia un paese di paradossi di assurdità da un lato si fanno entrare i clandestini e dall'altro logicamente si cerca di condannare di fermare un ex ministro che almeno provava almeno provava a far rispettare la legalità a non far sbarcare sul suolo italiano le navi delle ONG e non solo anche italiane con a bordo clandestini ONG che non sono neanche italiane vedremo Palamara il boss di Unicost e quindi la rete della magistratura centrista perché ci sono anche delle varie fazioni all'interno delle varie linee ideologiche all'interno della magistratura italiana e poi si permettono in Italia nell'Ovest Europeo e nel Nord America di criticare l'Ungheria o la Polonia per le riforme della magistratura della giustizia che la magistratura è troppo politica perché in Italia no? In Italia non c'è un intreccio tra magistratura e politica direi di sì a guardare sembra di sì a guardare queste intercettazioni oppure no Palamara Salvini anche se ha ragione sui migranti va attaccato l'intercettazione tra il boss di Unicost che era appunto la rete centrista dei magistrati e il capo della procura di Viterbo Auriemma non indagato spunta una nuova conversazione Whatsapp secondo quanto riporta la verità relativa ad Agosto 18 che riguarda la questione migranti Auriemma non indagato dice a Palamara Salvini indagato per i migranti siamo indifendibili quindi anche i magistrati danno ragione a noi a me a noi del canale che parliamo in questo modo che pensiamo in questo modo ma Palamara replica no no hai ragione ma ora bisogna attaccarlo quindi un magistrato che ragione in maniera ideologica quindi da sa che Salvini ha ragione ma va attaccato per le sue posizioni è vergognoso posso dirlo che è vergognoso risultano continui incroci tra Palamara e il leader della Lega ma il magistrato fa di tutto per non farsi notare al presidente dell'ANM Francesco Minisci c'è anche quella merda di Salvini ma io mi sono nascosto pensate se un ministro dell'interno ex ministro dell'interno del PD di sinistra o anche di Leo per dire venisse attaccato in questo modo da un magistrato di centrodestra o di destra leghista per esempio pensate la Repubblica Open Arms perché si sta parlando del caso Open Arms della ONG Proactiva Open Arms Spagnola di Oscar Camps poi vedremo giunta dice no a processo Salvini Italia Viva non partecipa al voto sapete la questione di ieri mattina per i renziani il leader regista non era il solo responsabile del blocco di 150 migranti cioè clandestini sulla nave dell'ONG spagnola la valutazione finisce 13 a 7 la 5 stelle Riccardi scusate vota in dissenso dal suo gruppo ma non sarà deferita ai propri diri l'ex grillino Gianrusso vota no quindi c'è stato una sorta di accordo evidentemente tra Renzi e qualcun altro e una certa frecciatina a conte di Renzi in senso positivo si sono pronunciati Anna Rossomando del PD Pietro Grasso di Leo Gregorio De Falco del gruppo misto e 4 senatori nel movimento 5 stelle 5 stelle con cui era al governo quindi Salvini la parola finale spetterà comunque all'aula di Palazzo Madama quindi al senato che entro fine giugno dovrà pronunciare il verdetto definitivo su questa vicenda il caso Penanzi il tribunale dei ministri di Palermo accusa il leader della Lega di sequestro di persone e di rifiuto di atti di ufficio per la vicenda di 150 miranti bloccati all'arco per alcuni giorni sulla nave dell'ONG spagnola prima dello sbarco a Lampedusa nell'agosto 19 ma vi pare normale che si indagli un ministro che fa rispettare il confine ma che nazione è sembra sembra che Italia e Ungheria stiano dall'altra parte del mondo una di qua all'altra di là siamo agli antipodi ma che nazione è 18 Gregoretti la lettera al Quirinale si tratta della terza decisione giunta su Salvini nella prima per il caso 18 la richiesta di processo venne respinta la successiva Gregoretti venne accolta lo stesso leader della Lega Salvini non più ministro chiese di essere processato perché di fatto sono accuse politiche evidentemente perché non si possono difendere i confini dall'immigrazione clandestina il processo o almeno tentare tentare di difenderli il processo per la Gregoretti è slittato per l'emergenza covid da luglio a ottobre prossimo vediamo i giornali ungresi ciò che ne pensa la stampa ungrese perché l'eco c'è stato un forte una forte eco anche in Ungheria ovviamente di questa vicenda assurda italiana Salvini non rinnego come titola non rinnego di aver difeso i confini italiani poi parla della Open Arms della ONG della nave della proattiva Open Arms questa ONG che secondo il suo fondatore Oscar Camps che è lui spagnolo ha chiesto soldi ha menzionato Soros tra i vostri finanziatori chiede l'intervistatore del Corriere della Sera no gli ho chiesto un contributo ma non ce l'ha dato quindi ha dei legami cerca dei legami con Soros con la Open Society Foundations del magnate ungherese americano poi vi faccio vedere Orban perché Orban supporta Salvini in questo supporta un'Italia che difenda i confini la legalità che non voglia appunto la sostituzione graduale degli europei e voglia invece un supporto alle famiglie e non un supporto agli immigrati illegali di massa vuole che l'Europa rimanga europea veramente Orban fa un post su Twitter dove fotografa e non capisco perché un vecchio Nokia vecchissimo Nokia e scrive la tua battaglia è una buona battaglia your fight is a good fight siamo con The VR With You Matteo e a questo post di Orban c'è anche Matteo Salvini che ha messo il like il mi piace Matteo Salvini risponde con una condivisione e commenta in questo modo grazie di cuore all'amico premier ungherese Viktor Orban per il bellissimo messaggio con le due bandiere quindi rinsaldare l'alleanza con il gruppo di Vicerat con i paesi come l'Ungheria è questo che vorrebbe fare la destra al contrario della sinistra che vuole invece l'immigrazione illegale evidentemente nei fatti si vede quindi capisco che alcuni vanno contro la Lega capisco che alcuni vanno contro Fratelli Italia ma i partiti che possono comunque anche in maniera molto più moderata di Orban molto più moderata della Polonia del governo polacco spostare gli assi dell'Europa unita fare in modo che l'approccio europeo non sia quello di spartire i clandestini ma quello di fermare i clandestini nel sud del continente nella parte anche della rotta balcanica nella parte spagnola cercare di fermare gli arrivi illegali far rispettare i confini perché questa è la chiave di cercare di risolvere per cercare di risolvere il problema immigrazione se volete lasciate un mi piace condividete il video seguitemi su tutte le piattaforme fate una donazione anche mensile al canale per supportare questo tipo di video che se vi piacciono scrivetemelo nei commenti se ne volete altri video poco consueti per il mio canale che parla più che altro di vicende fuori dall'Italia alla prossima vislata arrivederci vislata grazie a tutti Grazie a tutti.